Ciao a tutti, è arrabbiato con me? Per chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte disponibili ne scelgo 4 casuali. Carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. Allora, devi concentrarti su quest'uomo che pensi, vuoi capire, sei arrabbiato nei tuoi confronti, dopodiché concentrati bene, puoi prenderti anche il tempo per interrompere il video, dopodiché, e puoi riprenderlo, dopodiché scegli la carta 1, o la carta 2, o la carta 3, o la carta 4. Per chi scelta la carta 1? Il giudizio. Beh, ha un giudizio negativo nei tuoi confronti, al contrario, quindi potrebbe starci che un pochino di rabbia ci sia. No, non ha rabbia, anzi, direi che è innamorato di te, la carta è innamorato, quindi direi che sono tue, se lo pensi, sono tue, come dire, proiezioni. Il carro del trionfo, al contrario, non c'è ancora il carro del trionfo, ci potrebbe essere un po' di ancora, non tanto, però ci potrebbe essere. Cambiando però, invertendo un po' il modo di fare, riuscirai ad arrivare in trionfo. Carta 4, il mondo. No, non c'è rabbia, e anzi, c'è una possibilità grande di un'unione, anche qua con qualche piccola variazione comportamentale, ma tutto è fila per il verso giusto. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, Iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.